Devo andare di nuovo sul ponte per portare la Batmobile su Miyaghani Island. Sai, Hugo Stranger ci faceva la predica come lo spavetta passari, ma almeno ci inviava del cibo. D'annato Batman, è andata bene alla fabbrica. Hai saputo di quel tizio di cui parlano, quello col cappuccio che assomiglia a Batman? Che ha fatto? Lo spaventapasseri ha detto che doveva dimostrare quanto vale, perciò gli ha messo contro gli uomini piuttosti di due facce e del pinguino. E quel novellino li ha battuti come niente. Ricordami di rapinare un negozio di giocatori. Ho promesso un regalino a mio figlio. Eri con due facce? Io ero nella banda del pinguino. Sapevo che eri tu! Che risa infernale! Mi hai quasi incavato gli occhi dalle orbite. Sono felice di rivederti, amico. Che fine ha fatto lo squalo? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Centrale, rispondete! Qui Falcon 4. Abbiamo trovato uno dei bombieri scomparsi. È prigioniero nell'area di Grand Avenue. Fasso. Sono sicuro c'è una strana creatura che svolazza in giro. Non voglio conoscere le prossime mosse dello spaventapasseri. Speriamo Batman sia morto nell'esplosione. Per me può essere uno qualsiasi dimenticati che Batman ha schiaffato ad Arkham. Chi non vorrebbe Batman morto? Almeno quando c'è l'enigmista sui cartelloni è facile da aggiornare. Con tutti quei paroli... Alfred, sono sul ponte. Un attimo, sir. Devo avvertirla che c'è una considerevole presenza di miliziani più avanti. Ricevuto. Sono riuscito ad accedere ai file ai quali Miss Gordon stava lavorando prima di essere rapita. Avrebbe trovato il punto debole dei droni, sir. Un colpo diretto con il cannone Vulcan contro i sensori dovrebbe distruggerli in un colpo solo. Sergente! Stanno abbassando il Marsy Bridge. Arriva! Droni mamma online e pronti all'attacco! È stata con carica in parallelo, capace di penetrare la corsa più spessa. Anche io ho delle sorprese Batman. È qui! È qui! Cavaliere, mi ricevi. Difese sfondate. Si dirige a Miyagani Island. Non vedo l'ora di vedere Batman affrontare il Cavaliere di Arkham. Rattler colpito, mancò l'operativo. Persa l'unità al terminal traghetti. Ti vedo, Batman! Batman ha liquidato un drone. Bersaglio alfa avvistato. Rattler perso. Drone colpito dal bersaglio, con l'asse intatta! Uno in meno, signore. E fa sembrare degli idioti! Drone colpito! Drone colpito! Il veicolo del Cavaliere è uscito di strada poco più avanti. Batman ha liquidato un drone! Fate il giro, Bagali! Fiancheggiamento drone! Fiancheggiamento drone! Mamba preso! Colpito! Colpito! Mi colpiscono! Ha un drone! Drone è colpito, ma è ancora in funzione! Abbiamo perso l'unità ai giardini botanici! L'auto è vuota. Guarda controlli! Qui si passi a un drone! Qui si ripetano... tra! Chi si! Tra! Chi si! Chi! 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 Grazie a tutti. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ......